Ricordiamo anni passati spazi che venivano utilizzati cercando di riempire il più possibile, quindi massimizzare il numero di persone presenti in un luogo. Oggi l'iter è un po' quello che è il modus, che è anche il mondo dell'architettura e di chi questi spazi li pensa e poi li organizza, ha un focus soprattutto sul sentirsi in uno spazio confortevole, perché, e quando lo scopriamo oggi, ovviamente per una persona lavorare in uno spazio confortevole è una fonte di ispirazione laddove io faccia un lavoro creativo, ma soprattutto mi permette di avere anche dei risultati importanti. Collaboration e unified communication sono due termini che sentiamo molto spesso. Per l'evoluzione che c'è stata dal punto di vista tecnologico, ma un po' anche per quello come si sta muovendo il mondo lavorativo in genere, dobbiamo creare dei luoghi che possano essere adatti a questo modo, cioè non c'è più l'open space pensato come dieci anni fa, ma c'è un open space che possa essere condiviso, perché il lavoro è molto di team, è molto di team all'interno della stessa azienda, ma è molto di team anche, e qua il nostro spazio T-Club ne è un esempio, di sinergie con altre aziende. Quindi dobbiamo creare dei luoghi che possano essere, diciamo, dei propulsori, dei booster di questo modo di fare sinergia. Mi presento, sono Eros Ghezzi, sono Business Development Manager di IoT Solutions e mi sto occupando di far sì che IoT diventi sul mercato una presenza sempre più importante.